C'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno. Un luogo dove i pazienti hanno un nome, non solo un numero. Un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care. Un luogo dove il posto letto è sempre assicurato. E il luogo dove ci sentiamo più sicuri. Casa. Destina il tuo 5x1000 ad Ant. La tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore. La tua firma oggi è un luogo dove i pazienti hanno un luogo. Amici carissimi, ben trovati ancora una volta in Piazza del Popolo. La nostra trasmissione sta riscuotendo tantissimo successo. Sono tantissime le visualizzazioni per cui dobbiamo ringraziare tutti coloro che stanno assolvendo a questo impegno, a questo appuntamento con questa fortunata trasmissione. Piazza del Popolo è ancora una volta la piazza in cui si discute, la piazza nella quale ci si confronta e soprattutto la piazza nella quale arriva il contributo delle idee. Tante idee per una Manfredonia che viene pensata al futuro, un futuro che un po' tutti immaginano diverso da quello che è stato finora vissuto. Un futuro sul quale puntano tante forze politiche tradizionali ma anche forze politiche nuove. È una forza politica nuova quella che si affaccia a Manfredonia per le consultazioni elettorali e senz'altro Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia che quest'oggi è rappresentata dal co-coordinatore cittadino, il dottor Adriano Carbone. Ben trovato Adriano. Grazie Vincenzo, buonasera ai spettatori e ti ringrazio per avermi ospitato in questa trasmissione. C'era l'esigenza da parte nostra di far sentire anche la nostra presenza, viste le voci che in questi mesi si sono rincorse probabilmente solo di alcuni soggetti della politica. E' importante la mia presenza per far capire qual è il progetto di Fratelli d'Italia per la nostra città. Però prima di pensare alla nostra città dobbiamo anche immaginare che a breve ci saranno le elezioni regionali che sono importantissime anche per il futuro della nostra Manfredonia. Beh sì, infatti manca poco, anche se ci sarà una campagna elettorale estiva anche abbastanza lunga per l'appuntamento con le elezioni regionali. Elezioni regionali che permetteranno la elezione del Presidente della Regione. Tra l'altro è da qualche giorno che è stata ufficializzata la candidatura di Raffaele Fitto che per la Puglia è praticamente il candidato proprio del partito di Fratelli d'Italia. Sì, per noi è importante. Diciamo che era da tempo, forse da qualche anno, che Raffaele veniva qui anche in provincia di Foggia e noi in qualche modo abbiamo sempre cercato di stimolarlo in questa avventura. Anche perché, come dire, oggi l'aspetto più importante che si vive in Regione e l'abbiamo visto con Emiliano, con i danni che ha causato in alcuni settori è quello appunto di utilizzare al meglio le risorse comunitarie. E Raffaele Fitto in questo senso può essere una garanzia per la Regione avendo fatto un'esperienza, anzi la sta facendo ancora oggi, un'esperienza importantissima e molto apprezzata anche in Europa. Consideriamo che lui è anche il Vice Presidente dei conservatori riformisti europei e quindi ha una grossa esperienza nella gestione dei fondi comunitari. Può essere davvero una risorsa per la Puglia da questo punto di vista. Manfredonia si ritrova con una situazione anche di verifica proprio della situazione politica. Perché verifica? Perché praticamente dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose questo è il primo appuntamento elettorale. E' vero che c'è stato il cosiddetto lockdown, tutta questa fase di stand-by che non ha permesso lo svolgimento della vita associata. Per cui adesso che si torna quasi alla normalità, i partiti, le forze politiche stanno iniziando a dar vita alle loro attività. Attività di tipo politico e oltretutto attività che sono orientate a questo che è il nuovo appuntamento elettorale. Però dobbiamo fare qualche passo indietro. Anzitutto io vorrei parlare con te Adriano della fine ingloriosa che ha avuto l'ultimo governo cittadino. Sappiamo le motivazioni per cui è stato sciolto il Consiglio Comunale. Infiltrazioni di tipo mafioso, infiltrazioni della criminalità. Chiaramente si tratta di una soluzione che ha rammaricato tantissimo i cittadini di Manfredonia. Ecco, io vorrei ascoltare il parere di Fratelli d'Italia, della tua persona, su quella che è stata la fine ingloriosa della seconda esperienza di Riccardi Sindaco. Vincenzo, sulla questione del commissariamento e dello scioglimento del Comune Vermarca, io ho un'idea tutta mia che può anche non essere un'idea di Fratelli d'Italia. Cioè, la relazione per lo scioglimento è una relazione che poco mi ha convinto. Tu sai che io ho fatto per quasi 17-16 mesi il presidente, l'amministratore unico di ASEE. E devo dire, anche in quella circostanza, o meglio, nella relazione, abbiamo visto passaggi di soggetti che ruotano in quell'azienda. Per quella che è la mia esperienza, io ti posso garantire che non ci sono state, come dire, pressioni di nessun tipo. Io, diciamo, mi sarei aspettato invece una valutazione di altro tipo sull'amministrazione comunale di Manfredonia. Cioè, quello che io voglio dire, l'ho ascoltato anche dall'altra puntata da Massimiliano Ritucci, qui c'è un problema più grosso per l'amministrazione di Manfredonia, che è quello del bilancio. Allora, sarebbe opportuno capire se queste osservazioni fatte dalle opposizioni in Consiglio Comunale, per esempio da Angelo Salvemini, da Massimiliano Ritucci, dai Cinque Stelle, riguardo a problematiche di bilancio del Comune di Manfredonia. Bisogna capire quelle se sono davvero delle circostanze reali, perché se così fosse, quello è un grosso problema ed è un problema reale. Per quanto riguarda le infiltrazioni mafiose, noi ci dobbiamo, come dire, rifare a quello che dice chi giudicherà, cioè la magistratura. Adesso so che ci sono anche le udienze per l'ingandidabilità, vedremo come andrà a finire. Però io non mi sento di dare un giudizio, come dire, perché conosco gli argomenti. Non li conosco, però, come dirti, se devo leggere per quelle che sono le mie esperienze, le mie conoscenze, la relazione che è stata portata, come dire, a conoscenza di tutta l'opinione pubblica, devo dire che ci sono grossi passaggi che non mi convincono. Quindi bisogna capire quello che è successo in quella fase. Ripeto, io quello che ho anche detto qualche settimana fa, che è stato pubblicato sulla Gazzetta, quello che io non condivido, diciamo, io non condivido la gestione di questi 25 anni da parte di questo centocinistro. Gestione in tutti i campi, in tutti i settori. Allora, Adriano, effettivamente queste affermazioni corrispondono più o meno anche a quella che è stata la difesa dell'ex sindaco Riccardi. Non perché vi sia convergenza sulle idee, ma perché comunque non è stata accettata di buon grado questa decisione, decisione collegata allo scioglimento, ma soprattutto per le motivazioni che sono state lette nella famosa relazione. Per cui quando avremo la possibilità si tornerà a parlare di questa relazione, perché molto probabilmente, e su questo sono d'accordo, vengono riportati, fatti, circostanze, questioni che probabilmente hanno poco a che fare con quella che era la vera vita politica di questa città. Però giustamente hai fatto riferimento al piano di riequilibrio pluriennale, che per qualcuno è apparsa una soluzione, per altri invece non appare una soluzione. Vogliamo parlare proprio di questo argomento, perché senz'altro tu avrai da dire la tua, anche in qualità di dottore commercialista, visto e considerato che sei un addetto ai lavori. Vincenzo, quando io ti parlo di non condivisione delle scelte programmatiche di questa amministrazione, non solo dell'ultima, qui, come dicevo, bisogna partire già dall'amministrazione principe. Quando ti dico non condivido, io ho avuto modo di leggere la prima versione del piano di riequilibrio, quando fu proposto quello triennale. Ebbene, io dico che chiunque, anche una persona sproveduta, c'era bisogno del commercialista, ma chiunque leggesse quelle righe, cioè quali erano i capitoli nei quadri, diciamo che dovevano garantire le entrate per che soddisfacessero quel piano di riequilibrio, poteva tranquillamente capire che non era un piano, come dire, sostenibile, perché ci sono entrate che in questa amministrazione, con queste amministrazioni, in 25 anni, anzi forse anche in 30, 40 anni, non sono mai state, diciamo, non si è mai avuto la capacità di incamerarle. E mi sembrava illogico sperare che si riuscisse a fare in tre anni. Poi è stato cambiato, tanto è vero che poi è stato cambiato da triennale, è stato fatto quello triennale, però quello che non convince Vincenzo in questa amministrazione di questi 25 anni, a parte l'aspetto economico-finanziario, proprio l'aspetto programmatico di settore, cioè non è stato un raggruppamento, cioè un centro-sinistra che ha programmato il futuro della città e, come dire, dando speranze alle generazioni future. Se noi, io l'ho già detto, se noi guardiamo, se noi ci facciamo una domanda di qualsiasi settore della vita pubblica, io ho parlato dell'edilizia, della gestione dei tributi, dei servizi sociali, dello sport, qualsiasi argomento, io sfido chiunque a dire abbiamo programmato, siamo partiti da questa situazione e vogliamo arrivare a questo obiettivo. questo non c'è stato e questo è grave, questo è grave. E ti dirò di più, quando io sento dire a qualcuno che la prossima amministrazione comunale avrà difficoltà perché troverà le casse vuote, io ti dico che, lo dico già da qualche anno, che non sono d'accordo, perché il prossimo sindaco della città di Manfredoni si troverà con una situazione che probabilmente mai è avvenuta in questa città, e cioè avrà, verrà lasciato un bilancio da una commissione prefettizia e quindi, se vogliamo mettere in dubbio anche i conti che ci lasciano una commissione prefettizia, vuol dire che stiamo messi proprio male. Quindi partirà almeno con dei conti e con dei numeri certi, rispetto invece a chi ha governato fino ad oggi che aveva dei numeri che non sappiamo se sono reali o irreali. Quindi partire per un amministratore di qualsiasi tipo amministratore pubblico, amministratore privato, con un bilancio pulito significa già tanto. E poi, quello che dico io, che poi è il progetto di Fratelli d'Italia, non bisogna fare nella prossima amministrazione il libro dei sogni, come è stato fatto nelle precedenti amministrazioni. Bisogna puntare l'obiettivo, bisogna puntare tre o quattro obiettivi certi e su quelli puntare. Poi di là è la macchina, bisogna metterla in moto. Poi partirà anche tutto il resto. Ma sono due o tre obiettivi importanti e su quelli bisogna far girare tutta l'economia della città. Questo è l'obiettivo. Ecco, allora, poi eventualmente gli andiamo ad esaminare questi due, tre, quattro obiettivi strategici che hai preannunciato. Intanto vorrei sapere com'è la situazione all'interno del tuo partito di Fratelli d'Italia perché a noi risulta che c'è anche un altro coordinatore parlo di Vincenzo Loriso che quanto prima sarà anche nostro ospite con il quale ci interfacceremo. Come sta adesso la situazione del partito Fratelli d'Italia a Manfredo? Io dico che è stata fatta un'operazione intelligente da parte dei vertici provinciali e regionali. Cioè il nostro partito in questo momento soprattutto in Puglia dove la componente fittiana è molto forte nasce diciamo dalla fusione di direzione Italia che era il movimento politico di Fitto che è confluita in Fratelli d'Italia. naturalmente per evitare qualsiasi tipo di rottura spaccatura che non è in questo momento diciamo auspicabile né tantomeno vi è una spaccatura in questo senso si è deciso di nominare nelle città diciamo di una certa dimensione sopra i 20.000 abitanti il doppio coordinatore cioè lasciare il coordinatore di Fratelli d'Italia diciamo Fratelli d'Italia che già era esistente sul territorio affiangandolo se vi era la necessità ad un coordinatore diciamo di direzione Italia chiamiamolo così quindi noi viviamo tranquillamente la nostra dicotomia in maniera tranquilla noi facciamo faremo le manifestazioni penso di poterlo dire anche a nome di Vincenzo Loris le manifestazioni che si faranno qua a Manfredoni dove verranno invitati Raffaele Fitto speriamo Giorgia Meloni noi li faremo insieme perché non potrebbe essere diciamo non si potrebbe fare diversamente ripeto questo diciamo la nostra situazione è una situazione normale ci sono due circoli come ce ne sono in tante città e noi ci facciamo la nostra campagna elettorale loro faranno la loro sempre portando acqua al mulino diciamo di Fratelli d'Italia e di Raffaele Fitto ma senza nessuna come dire rottura lite o problemi di nessuna natura beh questo fa piacere sentirlo anche perché poi ci guadagna la città perché al di là di tutto una forza politica nuova che al momento non è stata mai rappresentata anche presso il consiglio comunale di Manfredoni che si affaccerà quindi forte anche delle buone percentuali che vengono accreditate a questo partito senz'altro otterrà un buon successo elettorale in occasione delle prossime consultazioni amministrative anche se ce ne vorrà di tempo per poter parlare delle prossime consultazioni dicevamo e parlavamo proprio degli obiettivi strategici ma intanto giusto per concludere il discorso della candidatura fitto si è finalmente arrivati a questa candidatura dopo una serie di incontri in cui vi è stata qualche pressione soprattutto da parte di un'altra forza politica del centrodestra però poi finalmente si è arrivati alla cosiddetta quadra così come si dice anche in occasione di quelle che possono essere le contrastazioni quindi una quadra che si è raggiunta con la candidatura di un soggetto politico anzi di un personaggio politico che già ha amministrato la Puglia in qualità di presidente e credo abbia lasciato anche un buon ricordo sì sicuramente Vincenzo dicevo qualcuno dice ma ma sa è una minestra riscaldata io non sono assolutamente convinto di questa cosa l'ho già spiegato prima e lo dico agli amici è una risorsa è un personaggio politico importante per il ruolo che riveste in Europa in questo momento e che ha rivestito per le competenze che ha acquisito in quella in quella sede quindi è un'occasione da non farsi veramente scappare io ti dico questo ogni tanto qualcuno leggo anche post su facebook qualcuno sai fa riferimento alla sanità perché sai qual è un settore importante e qualcuno dice ma sai i guai di questa sanità sono iniziati con Raffaele Vitti la cosa mi fa sorridere perché il ragionamento è senza voler entrare nel merito di quello che ha fatto o non ha fatto Raffaele Vitti quando era presidente della regione ci dimentichiamo che da quel momento cioè da quando Raffaele Vitti ha lasciato la regione ad oggi sono passati 15 anni allora io mi chiedo adesso indipendentemente se si chiama Raffaele Vitti o se si chiama vigenza di Stato ma se un'amministrazione di centro-sinistra per 15 anni mettiamo per ipotesi dico io solo per ipotesi estreme che Raffaele Vitti fosse stato diciamo colui che ha iniziato una sorta di politica diciamo sulla sanità ma è possibile che questi signori in 15 anni non sono stati capaci di modificare diciamo l'orientamento di quella politica sanitaria allora ecco perché io dico oggi bisogna assolutamente far capire tutto quello che queste amministrazioni centro-sinistra hanno fatto in questi 15 anni in regione in Puglia io tra le mie esperienze ti dico che ho fatto anche il revisore dei conti della ASL FG quindi i numeri le dinamiche un po' le conosco io ti posso dire che purtroppo c'è l'amministrazione della sanità in Puglia in questi 15 anni è veramente qualcosa di inguardabile anche lì perché poi torniamo sempre allo stesso argomento lì non c'è programmazione cioè si fa tutto alla giornata noi io basta vedere quello che Emiliano ha fatto in questi ultimi anni c'è solo campagna elettorale acquisto di soggetti anche del centro-destra messi in posizioni di vertice quindi senza nessun minimo di programmazione questo è il difetto e questo è quello che la gente deve capire in questo momento deve capire questo cioè che c'è bisogno di cambiare io quello che io ho ascoltato un po' di trasmissioni qui da te e io dico questo si sta focalizzando il ragionamento politico a Manfredonia sulle prossime elezioni comunali che sono assolutamente importanti però non possiamo tralasciare o pensare che le prossime elezioni regionali siano solo come dire un passaggio naturale per arrivare alle prossime amministrative perché chi conosce le dinamiche politiche le dinamiche gestionali le dinamiche di come come si finanziano i progetti sa benissimo che è come una squadra di calcio la politica è comune sono come la squadra di calcio che cosa si dice nel calcio si dice che per avere una squadra forte ci vuole diciamo lo stopper lo stopper il mediano e il centroavanti c'è tutta la linea tu sei un tradizionalista sei parlando del calcio del calcio degli anni 70-80 allora il ragionamento è quello prima della zona se noi adesso adesso io quello che voglio dire cittadini africani se noi oggi in regione ci troviamo un'amministrazione di centro-sinistra domani mattina per noi che siamo qui a Manfredonia e che vogliamo fare un progetto di centro-destra diventa difficile perché anche un eventuale vittorio del centro-destra a Manfredonia diventa difficile intercettare finanziamenti diventa difficile interloquire con qualcuno quindi queste scelte della regione sono scelte fondamentali e non devono essere secondarie rispetto alle elezioni comunali io in questi giorni in questi mesi ho ascoltato vari ragionamenti perché si incentrano tutte sulle elezioni comunali ma le elezioni regionali sono tanto importanti intanto ci vorrà un bel po' di tempo quasi due anni addirittura ci vorranno perché siccome sento parlare di candidati sindaci che si buttano come che ti voglio dire allora mi viene da ridere perché a parte che ci vogliono due anni ci sono le regionali di mezzo mi sembra anche un po' esagerato o anche parlare di certi argomenti perché io penso che prima si fanno i programmi i progetti e poi si parla di candidati sindaci quindi tu ritieni che siano solo fuochi artificiali quelli di eventuali candidati che si propongono o che vengono fuori così dalla discussione comune io penso che sia assolutamente inopportuno parlare di candidati sindaci ma ti dirò di più ed è un'idea diciamo che il nostro circo di Fratelli d'Italia ha molto a cuore noi abbiamo come dire molto rispetto del civismo e delle liste civiche però noi dimentichiamo che a Manfredonia soprattutto a Manfredonia io diciamo te la faccio io adesso la domanda io non mi ricordo da quanti anni forse decenni c'è stato un raccolpamento di centro-destra serio forte e credibile allora io dico invece che la prossima se vogliamo parlare delle lezioni le prossime lezioni come un anno innanzitutto noi ci poniamo come partito che ha come obiettivo quello di riunire il centro-destra in un progetto forte e serio poi il centro-destra potrà anche aprirsi alle liste civiche ma qui oggi il ragionamento sembra esattamente il contrario sembra che esistano solo le liste civiche e che i partiti politici sono come dire un appendice così tanto per per cambiare diciamo che poi Vincenzo questo è anche il ragionamento che già fece Raffaele Fit tre anni fa Raffaele Fit disse io posso fare il candidato presidente ma non è obbligatorio che io lo faccia il mio obiettivo è quello di arrivare alle prossime elezioni regionali con un centro-destra unito ed è quello che è successo poi grazie a Dio eppure lui il candidato presidente per noi tanto meno quindi un centro-destra unito anche per Manfredonia anche per Manfredonia chiaramente si sta lavorando da parte vostra per creare una coalizione forte credibile che possa puntare a governare la città quando ovviamente si inizierà a parlare le elezioni comunali quindi intanto c'è questo passaggio cosiddetto intermedio delle elezioni regionali poi chissà ci potrebbero essere anche le politiche in mezzo qualora il governo non riuscisse a tenere quindi dobbiamo tenere presente anche questa ipotesi più o meno qual è il periodo in cui si prevede si debba votare a Manfredonia per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale tutto dipende dalla commissione perché il problema è diciamo ci sono i 18 mesi da quando c'è stato l'insediamento di questa commissione 18 mesi però sai che la norma prevede anche che i commissari possano chiedere una proroga di ulteriori 6 mesi quindi si arriverebbe a 24 si potrebbe arrivare nella peggiore delle ipotesi anche a votare a maggio primavera 2022 quindi ecco perché parlare di candidati sindaci quando di acqua sotto i ponti ne passerà in quantità come dire industria c'era una valanga di acqua mi sembra assolutamente prematuro come hai detto tu potrebbe andare a finire anche che di mezzo ci sono pure le elezioni politiche quindi diventa di pieco perché è meglio parlare di programmi di progetti di riunificazione del centro-destra poi centro-destra sicuramente iniziamo a parlare di programmi ed eventualmente anche puntare su un candidato credibile come possa essere individuato a questo punto un programma e come può essere individuato un candidato credibile che possa rappresentare l'intero centro-destra uomo di partito o uomo d'area per esempio allora il problema è questo quando io dico l'unione del centro-destra quando dico uomo mi riferisco anche nel cuore donna assolutamente sono d'accordo con te il problema è questo Vincenzo quando io dico unione del centro-destra non dico che il candidato sindaco lo debba per forza esprimere il centro-destra dico il centro-destra unito traccia una linea programmatica per questa città intorno a quella linea programmatica con eventuali anche liste civiche che si potranno aggregare possiamo trovare insieme un candidato noi non siamo della serie il candidato o lo decidiamo noi o altrimenti questa cosa non si fa noi dobbiamo pensare al bene della città quindi se c'è un partito un raggruppamento civico che aderisce al progetto e che condivide diciamo la linea programmatica tracciata a una persona spendibile credibile professionalmente preparata ma che Vincenzo questo lo dico diciamo per l'esperienza che forse abbiamo vissuto in temi passati ma che sia anche politicamente preparati perché fare il candidato sindaco non significa solo che se io sono un bravo commercialista un bravo ingegnere un bravo dottore posso fare il sindaco io devo anche capire la politica i tempi i modi altrimenti non andiamo da nessuna parte perché altrimenti i candidati sindaci se dobbiamo trovare professionisti bravi e preparati ne troviamo in quantità industriale ma se poi non masticano la politica non sanno quali sono i tempi non andiamo da nessuna parte abbiamo già vissuto di queste situazioni quindi faccio una sintesi un candidato che non necessariamente sia collegato a una lista di centro-destra eventualmente d'area un professionista valido che però abbia soprattutto gli elementi fondamentali della politica mastichi politica e sappia già come organizzare un proprio gruppo un proprio gabinetto se vogliamo e quindi anche una propria organizzazione finalizzata a gestire la città questa organizzazione a questo punto verrebbe sostenuta da un centro-destra unito effettivamente nel passato naturalmente quando tu dici centro-destra unito quello è l'obiettivo che noi ci poniamo come partito poi è normale che ci dobbiamo incontrare sedere vedere se gli altri partiti la pensano allo stesso modo io non penso che ci siano difficoltà da questo punto di vista però dobbiamo comunque valutare queste opzioni ma io dico che se siamo intelligenti insomma questo è il momento nel quale bisogna andare tutti uniti e possiamo veramente vingere finalmente questa battaglia ecco la tua analisi poco fa si soffermava soprattutto sulla questione economica di Manfredonia Manfredonia che chiaramente si ritroverà dopo questo periodo di emergenza ad affrontare le problematiche economiche di settore e poi ovviamente una problematica economica globale che interesserà la città vogliamo eventualmente guardare in senso ottimistico a quelle che possono essere le soluzioni per poi avviarci ad un confronto che possa essere utile per la città dal punto di vista economico allora Vincenzo la questione è questa quando io dico che non bisogna fare il libro dei sogni fondare su 3-4 circostanze parto proprio dal principio che oggi sarebbe stupido pensare che il comune di Manfredonia ha le casse piene il comune di Manfredonia ha le casse vuote quindi partiamo da questo principio naturalmente non è che ci possiamo arrendere di fronte a questa circostanza dobbiamo mettere in atto tutta una serie di questioni che ci consentono di lavorare faccio un esempio gestione di tributi qual è il mio pensiero su gestione di tributi io mi chiedo allora quando si fa un progetto quando si 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 vogliono fare dei cambiamenti bisogna fare delle valutazioni io quello che non ho condiviso in questa fase per la storia di gestione di tributi è internalizzazione o affidamento all'esterno allora io mi chiedo un'amministrazione che ha un minimo di diciamo di cognizione di dove si trova può mai pensare tu hai fatto il dipendente comunale a Manfredone può mai pensare che in questa fase un servizio fondamentale per la città e per le casse comunali possa essere internalizzato io penso che solo un folle possa pensare una cosa del genere in questo momento storico non ci sono dipendenti non ci sono professionalità non c'è nulla allora io vado a pensare o a scervellarmi sull'internalizzazione io penso che l'operazione di gestione di tributi che andava fatta secondo me è un'operazione di una semplicità assoluta e cioè quella di fare un nuovo ban rivedere gli agi al ribasso cioè per esempio sulla discussione volontaria io non ti do niente sto dando dei numeri non è che sto sì sì no ma vabbè tra l'altro non ti do niente interessante questa tua proposta perché è una soluzione diversa da quelle che sono state dette precedentemente su invece su quello che tu mi recuperi dall'evasione possiamo discutere naturalmente non ai tassi che vi ho questa mi sembrava una soluzione intermedia quindi una sorta di pagamento a premio quanto più la società se recupera a favore del comune incassa mi sembra una soluzione intermedia tra i due estremi che era una logicità assoluta però qui torniamo sempre al discorso della programmazione lì non c'è mancanza di programmazione e lo capiscono anche i bambini che quella soluzione diciamo di gestione di tribù è la risultante di una lotta intestina all'interno del PD e allora noi cittadini non possiamo come dire subire di queste cose cioè noi abbiamo la necessità di avere un'amministrazione che pensi alla città non viva di lotta intestina all'interno di un gruppo politico queste cose che io sono dicendo secondo me sono di una elementarità assoluta cioè Vincenzo oggi io non ho un dipendente al comune di Manfredone tu lo stai vedendo per le carte di identità ci siamo rivolti mi sa al comune di Zapponeta figuriamoci se io oggi mi devo affidare ai dipendenti del comune di Manfredone ma non perché non sono preparati ma perché non ce ne sono sono più gli LSU che lavorano senza gli LSU che fanno da impiegati probabilmente il comune sarebbe vuoto e noi ci immaginiamo come amministrazione iniziamo a litigare io e te all'interno dello stesso partito se dobbiamo internalizzare o se dobbiamo lasciare le cose come stanno non funziona così quello è diciamo già il primo tassello che può tranquillamente essere messo la questione dei rifiuti per esempio no io vorrei un passaggio invece dopo parliamo dei rifiuti invece un tuo pensiero sul fatto che proprio da qualche giorno è stato affidato il servizio di ragioneria a un altro responsabile che viene dall'esterno guarda Vincenzo sono quei misteri della vita che io sinceramente non riesco io sono cioè voglio dire di professionisti in Manfredonia ce ne sono ma la questione non è la questione del professionista ci sono io non sono uno favorevole al discorso che se è giovane è meglio non sono di queste idee anche se sono giovane hanno posto da 50 anni non sono per l'età anagrafica di questa persona che sinceramente non conosco perché poi si è preparato noi abbiamo visto che ci sono giovani che hanno fatto tanti quei danni che non ne parliamo io ho letto quella non so se era una delibera mi fa che io per l'amor di Dio ho stima rispetto dei commissari ma io penso che se quella delibera l'avesse fatta un'amministrazione politica diciamo di stampo politico non so che cosa sarebbe successo io non so se ha avuto modo di leggerla questo è un affidamento a questa persona di 72 anni che dovrà gestire solamente i tributi locali cioè COSAP TOSAP TARI EIU non lo so che senso ha una cosa di questo tipo io non me lo so spiegare io da tecnico non mi so spiegare che funzioni avrà questo ragioniere che è stato chiamato per gestire questa fase però la domanda della Pongo al contrario se l'avesse fatto per dire Fratelli d'Italia con il sindaco di Fratelli d'Italia una delibera di quel tipo non è cosa sarebbe successo sono quelle cose che io non mi sono spiegate 25 anni di amministrazione di centro-sinistra a cominciare dai 5 anni di Gaidano Principe poi 10 di Francesco Paolo Campo e 9 di Angelo Riccardi tracce sono state lasciate in questa città stracce dappertutto stracce di mancata programmazione in maniera così da toccare con mano io ad esempio uno dei comparti che veramente mi sconcerta è quello dell'edilizia parlando proprio di comparti è stato creato perché è stato creato è stato quel sistema balordo dei comparti che hanno consentito anche a gente che non ha mai fatto impresa di diventare imprenditori e di costituire cooperative prendere soldi da gente che aveva il sogno della prima casa e a un certo punto oggi si è arenato tutto si è arenato tutto adesso sento dire che prima della non ho contezza di questa cosa però mi è stato detto da più persone che prima della caduta di questa amministrazione si era pensato addirittura che in alcuni comparti bisognava cedere hanno chiesto alle cooperative di cedere le aree e di darle in compensazione nelle zone di completa nelle zone CB di Manfredone c'è una confusione del settore dell'edilizia totale che ha solamente favorito gli sciacalli cioè quelli che hanno preso soldi da questi poveri nostri concittadini che avevano le zone di Arunaga e che oggi sono abbandonati a se stessere io faccio il commercialista ho anche delle cooperative edilizie che seguo sinceramente ti dico che non so mai non so questi quando vedranno mai realizzare la loro casa e hanno comprato il terreno semmai 10, 15, 20 anni fa hanno messo fuori i soldi per l'acquisto del terreno però non li vedranno mai perché le cooperative non sono in grado di restituire questo sistema Vincenzo chi l'ha creato? non l'ha creato certo il centro-destra l'ha creato questo sistema ecco perché io qui dico questa amministrazione centro-sinistra è responsabile io durante il lockdown mi ero un po' scosso diciamo perché mi rendevo conto che in questa città funzionava in questo modo cioè coloro che hanno gestito la cosa pubblica per 25 anni oggi si ritengono solamente loro coloro che saranno capaci domani di far rinascere questa città cioè è un teorema veramente assurdo loro abbiamo portato la città fino a questo livello che è un livello bassissimo e oggi noi ci riproponiamo come gli unici che hanno la possibilità di poter rilanciare la città ma forse perché c'è sottovalutazione dell'altra parte politica probabilmente sì probabilmente sì ecco perché ti dico il centro-destra deve avere come farà quest'altra parte politica a trovare una valutazione migliore allora Vincenzo il passaggio fondamentale te l'ho già spiegato secondo me sono le regionali dove lì si conterà anche il peso specifico della coalizione di centro-destra rispetto a quella di centro-sinistra però noi l'abbiamo vissuto già negli anni passati dove succedevano cose allucinanti perché questa probabilmente non è una città di sinistra perché tu sai meglio di me che alle elezioni politiche tante volte addirittura Fratelli d'Italia una volta mi sa che fu anche il primo partito ma credo però poi andavamo a vedere lo spoglio delle comunali e c'erano le maggioranze burguere a favore del centro-sinistra forse ti riferisci ad alleanza nazionale alleanza nazionale sì allora il problema è questo questa volta dobbiamo essere intelligenti a sfruttare le elezioni regionali creare diciamo uno zoccolo duro in regione e sfruttare quello zoccolo duro per come dire proporre un programma alla città ecco come si può dare credibilità ad un centro-destra unito quando abbiamo dei tristi esempi del passato in cui molti elementi provenienti dal centro-destra poi a un certo punto anche per provare una scalata a livello politico si sono invece orientati dall'altra parte Vincenzo la credibilità la devono dare i partiti innanzitutto con la selezione della classe politica che domani dovrà gestire la città è normale io adesso ti ho parlato del centro-sinistra però qualcosa dobbiamo dire pure sul centro-destra il centro-destra io diciamo uso un eufemismo diciamo negli ultimi 25 anni è stato diciamo io voglio dire che è stato distratto diciamo era un po' distratto e non l'ha visto quindi io sto dicendo il centro-destra ha anche le sue responsabilità di questi 25 anni e infatti questa è la domanda questo è lampana è chiaro non è che ci stiamo nascondendo però oggi dobbiamo essere bravi a creare un altro soggetto politico ecco perché prima ti dicevo noi 25 anni non abbiamo mai avuto un centro-destra credibile oggi dobbiamo fare in modo ed è quello il nostro obiettivo che il centro-destra sia credibile cioè noi lavoriamo per noi come fratelli d'Italia ma vogliamo cercare di lavorare anche con Forza Italia e la Liga per cercare di dare un centro-destra credibile avete iniziato ad avere altri contatti con le altre forze politiche di centro-destra mi riferisco almeno per quanto per quanto riguarda Liga e Forza Italia allora ti dico subito in questo momento noi non abbiamo avuto nessuna interlocuzione perché io diciamo il nostro gruppo il nostro direttivo di circolo quindi siamo un po' a compartimenti stagni cioè io ritengo che in questa fase bisogna parlare ai cittadini di quello che succederà in regione dopo le regionali possiamo fare tutti i tavoli di questo mondo ma oggi dobbiamo parlare perché oggi non dobbiamo farci ingannare dei sondaggi perché molti di noi si stanno pullando e abbiamo 6 punti 7 punti Corriere della Sede no dobbiamo lavorare dobbiamo andare nelle case degli amici dobbiamo far capire certe dinamiche e dobbiamo cercare di portare a casa i risultati anche perché Manfredonia vive sempre una situazione sui generis è strano a doverlo affermare ma molte nuove combinazioni molti riferimenti qui in questa città arrivano sempre con ritardo con ritardo di qualche mese se non addirittura di qualche anno quindi è chiaro che riferimenti sono collegati a quello che si è verificato anche nel passato io noi siamo a conclusione quasi di questa bella chiacchierata Adriano tu sai benissimo come Manfredonia TV è aperta a dialogare con chiunque ed è aperta anche ad avere buoni rapporti soprattutto con quelle forze politiche che vogliono e credono in una fase politica nuova e che vogliono affacciarsi in un futuro più prossimo a governare questa città in maniera differente alternativa perché diciamolo chiaramente 25 anni sono tanti sono una vita e abbiamo visto purtroppo i risultati che ne derivano forse non è tutta colpa di chi ha governato forse è anche colpa di chi è stato distratto come tu stesso hai sottolineato ma effettivamente in questa città in questa Manfredonia questa analisi va fatta non vi è mai stata una vera e propria forza politica di opposizione un vero e proprio raggruppamento di opposizione si possono contare sulle punta delle dita quelle forze politiche o quegli uomini singoli rappresentanti di partito che hanno fatto la loro parte facendo opposizione ma i numeri purtroppo sono stati risicati in questa città si è verificato nelle ultime tornate elettorali e mi riferisco soprattutto alle ultime quattro in cui le forze politiche di opposizione non hanno ottenuto dal punto di vista numerico neppure il minimo sindacale consentito alla occasione della elezione diretta del sindaco cioè non sono stati ottenuti neppure i seggi minimi per poter fare opposizione che significa questo? Significa Vincenzo che il centro-destra ha lavorato male ha scelto come dire non ha programmato non ha scelto gli uomini migliori in più nel momento o qualche volta il centro-destra ha anche detto governate voi Manfredoni a noi interessa da qualche altra questo è fuori di dubbio ci sono stati momenti storici dove probabilmente se qualche esponente politico del centro-destra avesse avuto il coraggio di opporsi a questo centro-sinistra probabilmente si sarebbero vinte anche le elezioni comunali noi non ci dimentichiamo che il primo Paolo Ocampo è il frutto di una come dire è proprio il caso di dire che la matematica non fa l'opinione cioè non fa la somma non fa il totale come diceva Totò ti ricordi quando è stato eletto Paolo Ocampo avevamo ogni santi dicembrino Foglia che insieme prendevano oltre il 70% rispetto a Paolo Ocampo ballottaggio Foglia a campo sconfitto di Foglia cioè questo ti lascia immaginare e capire che cosa è stato il centro-destra in questi 25 anni è stato un centro-destra in qualche modo come hai detto tu distratto distratto diciamo vogliamo usare questo termine interessato ad amico diciamo distratto perché ci piace diciamo il termine distratto oggi però insomma si poteva fare fare meglio speriamo di fare meglio dobbiamo fare meglio però Vincenzo è importante non andare a chiedere il voto a queste regionali ma spiegare le motivazioni del voto e soprattutto c'è un altro aspetto diciamo che su questo punto riceverò un po' di critiche anzi molte critiche evitiamo perché è l'esperienza che ci deve guidare evitiamo di fare il solito ragionamento dobbiamo votare quello di Manfredone perché noi abbiamo avuto consiglieri regionali di tutto e di più abbiamo avuto in questa città ma non mi pare che questo sia stato motivo di come dire di successo per la città allora io dico votiamo la gente competente gente che ha dato anche segnali al territorio gente che si è impegnata nella politica che ha le competenze politiche questo è fondamentale io devo dire che una volta sono stato ospite a Bruxelles e lì non si fa solo come dire per gita ma si fanno anche delle conferenze e andammo in una conferenza eravamo una quarantina di persone una conferenza da un dirigente italiano lì al Parlamento europeo e noi facevamo le domande sui trattati ma perché i trattati ma perché qua ma perché là e il dirigente a un certo punto dopo la nostra insistenza ci ha detto una cosa che è di una chiarezza unica ha detto guardate voi in Italia fin quando continuerete a mandare qua in Europa le ballerine i calciatori le subrette non andremo da nessuna pa qui dovete mandare gente competente allora lo stesso ragionamento vale in tutte le istituzioni vale al Comune alla Regione alla Camera al Senato se ci sanno la possibilità alla Camera al Senato ormai alla Camera al Senato dobbiamo mettere la crocetta sul simbolo nella migliore delle ipotesi va bene questa è un'affermazione molto molto particolare a volte la condivido pure anche perché sta succedendo questo da parecchi anni a questa parte purtroppo e questo vuol dire anche che la parola democrazia a volte è in serie dubbi di interpretazione e allora io caro Adriano ti ringrazio per questa presenza ti ringrazio per essere stato nostro ospite ovviamente avremo altre tante occasioni per interloquire per poter parlare dei progetti del partito Fratelli d'Italia ma anche della eventuale coalizione di centrodestra che andrà a formarsi questo non vuol dire non lasciare spazio anche ad altre forze politiche lo facciamo con tutti la nostra emittente è aperta a tutte le forze politiche intanto ti facciamo gli auguri per questo ruolo anzi in bocca al lupo per questo ruolo di co-coordinatore assieme è più difficile da dire diciamo co-coordinatore sì difficile insomma vabbè io ci ho provato sono riuscito nel dirlo e ovviamente l'appuntamento è rinnovato a una prossima occasione anche perché come detto fra non molto andremo proprio giù a testa in giù verso quella che è la nuova campagna elettorale per la elezione del nuovo governatore di Puglia e soprattutto per la elezione del consiglio regionale quindi grazie ancora grazie a te Vincenzo per l'ospitalità ringrazio gli amici che ci stanno seguendo alla prossima io spero di portare qua a Manfredonia a Raffaele Fitto se sarà il nostro ospite lo porto anche da te così magari sarebbe comunque una presenza di qualità e noi ce lo auguriamo io intanto saluto tutti coloro che sono stati in nostra compagnia ad ascoltare questa interessante intervista per Piazza del Popolo rinnoviamo l'appuntamento alla prossima occasione un grazie sentito va anche al nostro regista Andrea Colaianni un saluto a tutti e arrivederci alla prossima saluto c'è un luogo dove il medico a suonare quando il malato ha bisogno un luogo dove i pazienti hanno un nome non solo un numero un luogo dove alle cure mediche si aggiunge l'affetto intenso delle persone care un luogo dove il posto letto è sempre assicurato è il luogo dove ci sentiamo più sicuri casa destina il tuo 5x1000 adant la tua firma oggi è indispensabile per continuare a curare gratuitamente a domicilio i malati di tumore a domicilio